Sono in costante aumento i casi Covid a Sansepolcro, a preoccupare sono le varianti e anche la vicinanza con l'Umbria. Ancora una settimana di scuole chiuse, ancora un importante sacrificio chiesto alle famiglie per evitare la zona rossa. Sì, ancora scuole chiuse fino a fine settimana, dopodiché penso in linea di massima che verranno riaperte, anche per aiutare un po' le famiglie che obiettivamente con le scuole chiuse hanno una qualche difficoltà. Certo bisognerà stare a vedere come proseguono questi prelievi anche sui bambini, i tamponi sui bambini, e vedere la presenza di queste varianti, perché poi alla fine è questo che interessa particolarmente alla sanità attuale, vedere la presenza di queste varianti, perché ormai come tutti un po' hanno percepito, possono creare anche delle problematiche di resistenza anche ai vaccini. Quindi è chiaro che c'è un interesse particolare, non solo per i bambini, ma un po' a più ampio raggio, per vedere l'andamento di questa infezione. Senta, che andamento avete visto del virus nell'ultima settimana? Ma guardi, praticamente è dall'inizio di febbraio che noi vediamo un aumento costante, che del resto è rapportato al fatto che abbiamo l'Umbria qui a due chilometri, e naturalmente l'aumento che c'è stato in Umbria poi necessariamente si sente anche da noi, perché naturalmente lo spostamento di chi lavora, delle scuole, degli studenti, è tale che non si può fermare più di tanto. Quindi è stato un aumento costante che preoccupa abbastanza tutti, e anche i medici e la ASL, come abbiamo visto, ha aderito volentieri al progetto Territori Sicuri, anche per avere un'ulteriore valutazione dello stato attuale del nostro sistema sanitario. Quindi è logico che bisogna stare molto attenti, con una prudenza forse che può essere valutata anche eccessiva da fuori, però obiettivamente allo stato attuale non si può fare diversamente, credo. Lei è un infettivologo, un medico, ci diceva. Si stanno riscontrando anche delle conseguenze importanti anche sui giovani, anche su chi non ha, diciamo, comorbidità. Dipende ovviamente anche, immagino, dalle difese immunitarie, dall'organismo, insomma, è tutta una questione a volte anche molto individuale. Molto individuale. È vero che colpisce più gli anziani, come si sa, con una mortalità più alta nell'età più avanzata, però dobbiamo dire che anche nei giovani che sono stati colpiti ci possono essere conseguenze non del tutto trascurabili. Quindi quando si dice di fare attenzione un po' a tutto tondo c'è un motivo preciso. Certo, non è che si può creare un allarmismo che poi può andare contro anche con un equilibrio mentale che comunque bisogna cercare di mantenere, ma non è una situazione, un tipo di infezione virale che obiettivamente crea maggiori preoccupazioni di tutte quelle che abbiamo visto finora. Per esempio, infezioni da influenza, eccetera, da virus influenzali. E questa mutazione continua del virus rientra nella normalità di questi virus, perché sono virus che tendono a mutare frequentemente e quindi la presenza di queste varianti nel territorio certo crea un allarme perché bisogna stare ben attenti che i vaccini preparati, che sono l'arma principale che adesso abbiamo, siano coprenti anche nei confronti di queste varianti che si stanno manifestando.